Nemmeno il freddo polare degli ultimi giorni ha allontanato gli ex dipendenti della Baritec dai loro presidi permanenti. Oltre quello davanti allo stabilimento, il secondo davanti alla prefettura continua ad alimentare le speranze a meno di 24 ore dal vertice, al quale parteciperanno anche i sindacati e rappresentanti delle istituzioni. Si parlerà con l'Asi per capire un po' pure se il capannone è vincolato a noi o no, si può vendere con le persone o senza persone. Quindi siamo in attesa di questo e noi stiamo chiedendo anche alle istituzioni che continuino a fare il loro dovere. Le nostre speranze sono minime perché l'età che abbiamo e tutto il resto non è che abbiamo, però noi continuiamo a lottare. Gli ex lavoratori Baritec non si danno per vinti, anche se considerano un possibile ricollocamento un'ipotesi lontana. Perché a questa età nessuno ci vuole, anche se siamo capaci, e so di questo sono sicuro, più dei miei colleghi, non lo so se gli altri ormai stanno perdendo le speranze, però io la speranza non la sto perdendo ancora. Però siamo capaci di fare tutto, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo anche a chi ha intenzione di prenderci. Come va avanti la vita in questi giorni? Come deve andare avanti? Qua ci stiamo ammalando soltanto. i figli che ci chiedono perché non fai questo, perché non fai quest'altro, senza capirci, perché loro sono giovani, loro sono più vivi, diciamo. Noi siamo, non è che siamo spenti, però ci attacchiamo agli spirali perché l'età che abbiamo non è che non ne abbiamo fatto domande o curriculum, non ne abbiamo mandati, non ci risponde nessuno.